Ragazzi buongiorno a tutti, oggi facciamo la prima rassegna stampa del mio canale, vediamo come va, se funziona e vi piace, la continueremo tutti i giorni, fatemelo sapere tra i commenti logicamente. Partiamo con il tempo che in prima pagina, il giornale di Tommaso Cerno, direttore, Gualtieri, sprofonda nella classifica dei sindaci, la capitale penultima dai rifiuti ai cantieri ai disservizi, ecco tutte le ragioni della De Pacle, rovina Roma, lo sfondo con Gualtieri che guarda da un terrazzino i mezzi pubblici pieni. Dal sondaggio di Noto esce la radiografia di un flop, quella della capitale, nella classifica sul gradimento dei sindaci, Gualtieri si piazza infatti al penultimo posto assieme al primo cittadino di Palermo, crolla il sindaco di Milano Sala, che da primo, che non si sa perché era primo, diventa diciannovesimo. E poi altro articolino in fianco, da Termini a San Lorenzo, Clochard e Risse, scoppia la rivolta degli inquilini, ma la gente a Roma ragazzi è esasperata, è esasperata. Andiamo avanti, questa è la prima pagina del tempo, passiamo al libro, che in prima pagina parte con l'intitolazione dell'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi. Sempre i soliti comunisti, Silvio Divisivo, il PD a Malpensa vuole Neil Delotti, la rosa dei nomi P. Partinson che i dem propongono per l'aeroporto, ci sono la compagna di Togliatti e la HAC, eletta con rifondazione. Io personalmente neanche so chi è. L'odio della sinistra. Tra tutti gli articoli poi di libro, in prima pagina troviamo l'editoriale di Daniele Capessone. L'odio della sinistra per gli americani è più forte di loro e loro, questi lettori di libro, lo sanno bene. Sono i compagni della sinistra, divisi su mille cose, sempre religiosi, qualcuno rosso, qualcuno rosè, qualcuno fucsia, qualcuno arcobaleno, ma tutti profondamente uniti dal cemento dell'odio politico, da un istinto distruttivo che li porta a condividere i nemici, i bersagli da colpire. E poi continuo a pagina 3, ottimo articolo che vi suggerisco assolutamente di leggere, sempre dalla prima pagina, tra religione e politica, Antonio Socci, criticano Trump, pure se s'affida a Dio, logicamente. E andiamo avanti. La sanità rossa, il degrado esito dei pugliesi per curarsi. Quindi, per curarsi in Puglia, devi andare fuori. Molto bene. C'è un primo sondaggio, poi, che ci fanno dare Mirko Molteni, in America. Il primo sondaggio dopo l'attentato. Donald V. sceglie Vance come vice. Il crollo dei Biden negli stati chiave USA. E arriviamo poi al fatto quotidiano che apre in prima pagina una foto di Trump col pugno chiuso e la scritta Il piromane pompiere, come a dire, lui incendia tutto e poi spegne con sta scusa che l'hanno attentato. Trump fa il pacificatore e nomina Vance suo vice. E poi sotto attaccano subito la destra. Trent'anni di aggressioni verbali e non. Salvini e Santanchè e compagni la destra tutta insulti e botte da dei violenti agli altri. Ricordo il fatto che circa un mese fa una deputata dei 5 Stelle augurava al governo attuale una fine atroce appesi a testa all'ingiù a piazzale Loreto. Ma andiamo avanti. Andiamo poi sulla verità di Maurizio Belpietro che anche lui ci parla di Trump stamattina. Per un centimetro da rischio guerra civile ha nuove prospettive. Effetto attentato. Cambia tutto. Trump sente più vicina la Casa Bianca e muta strategia. Sarà più istituzionale. Anche il resto del mondo si prepara alla novità. Riflessi sulle trattative per la Commissione UE. I mercati reagiscono bene. L'Europa approva i dazi alla Cina e persino Zelensky capisce l'antifona. Al prossimo summit per la pace devono esserci pure i russi spirali di realismo nella crisi ucraina. Quindi l'effetto Trump un po' sul mondo si fa sentire e sembra molto positivo ragazzi. E all'interno della verità troviamo un pezzo di Mario Giordano che con ironia scrive Ora fa il martire. Dem spiazzati e rabbiosi. Quello sparo manna dal cielo. E praticamente ci fa capire che addirittura Trump ha osato farsi sparare secondo questi compagni di sinistra. Andiamo poi su Repubblica che apre con la solita polemica Trump spallata sovranista. Nonostante gli appelli dopo l'attentato a evitare lo scontro politico che tra l'altro per me è arrivato sempre da sinistra negli ultimi anni. Il Taygon sceglie come suo vice il 39enne Vance, senatore dalla latura del partito repubblicano. L'ex presidente incassa la nomination per la Casa Bianca. Ora cancellate tutti i processi contro di me. Svolta repubblicana sull'aborto. Decidono gli stati. Inchiesta sugli spari. I trampiani chiedono il licenziamento della capa della sicurezza. Molte polemiche su sta capa della sicurezza ragazzi. E poi l'intervista a Gentiloni che non poteva mancare. Gentiloni, l'occidente fragile. È necessario votare per Ursula. Il voto di giovedì è storico. Serve un'Europa forte. La destra vuole risgregarla. L'emergenza poi scrivono. Strage nelle carceri. Un suicidio ogni tre giorni. Brutta storia quella. Andiamo poi sul giornale che apre. Verso la svolta presidenziale. Nasce il nuovo Trump. Scampato all'attentato. Donald vince anche in tribunale. E annuncia aperture. A partire dall'aborto. Ma come vice sceglie il falco Vance. Inevitabile il passo indietro. Quello sparo cambia tutto. Biden senza argomenti. Ora è obbligato a lasciare. Troviamo poi l'editoriale di Alessandro Sallusti. Appello alla sinistra. Non siate infami. Molto interessante. Lo consiglio di leggere. Poi sotto un articolo di Napolitano. Meloni De Luca. La fotografia della tregua. Sono il civile De Luca. Ieri così si è presentato. Il presidente della regione campana. Meno male. Almeno lui smorza un po' i toni. Andiamo poi sul Corriere della Sera. Trump passa già al contrattacco. I giudici chiudono il caso delle carte segrete. Archiviate anche il resto. Vivo per miracolo. Voglio unire l'America. L'attentatore ha già... L'attentatore ha agito da solo. I passi falsi del Secret Service. Gli effetti su Biden. Tutto in quel centimetro che entrerà nella storia. Ebbene sì ragazzi. Che un centimetro si è sfiorata una tragedia che forse avrebbe portato un paese alla guerra civile. Da destra a sinistra che cosa c'è dietro? Le follie dei complottisti. Sì poi questi giorni si sono aperte le più svariate teorie complottistiche su questo fallito attentato. Siamo alla follia ragazzi. Da leggere assolutamente il pezzo di Federico Rampini. Chiudiamo poi questa carrellata con il messaggero che in prima pagina titola Trump, un Marine come vice. Con la nomination repubblicana arriva la scelta di Vance. Un ex rivale sedotto da Donald ha servito in Iraq e capisce operai agricoltori. A bordo svolta moderata la scelta ai singoli stati. Ragazzi se vi è piaciuta questa rassegna stampa mettete un mi piace. Se avete qualche consiglio scrivetelo tra i commenti se vi sto simpatico. Iscrivetevi al canale e se proprio non riuscite a far meno di tutti i miei video attivate la campanellina.